Ciao a tutti ragazzi e bentornati a TashiGamingChannel Siamo per la prima volta su Among Us E volevo un po' imparare a giocare Ok ci siamo quindi direi di andare in partita Facciamo sempre la modalità online Ok ci vediamo in partita Eccoci qua ragazzi entrati in partita Vediamo un po' Io sono astronauta Un impostore tra di noi Ok male siamo già Abbiamo già fatto qualcosa che non voglio Cioè non c'è già qualcuno Allora Attenzione scarica i dati Divi Divi energia Ragazzi cos'è sta roba Qua c'è un po' di gente Quindi ragazzi via Ora sono O2 Ma attenzione devi energia A O2 Questo qua è O2 Mi sa che sono tipo delle missioni così A caso da fare Ecco non posso fare niente Uri paraluci Cacchio 0% Scudi qua Ma che cacchio c'è da fare qua La c'è stata ammazzata da più Oh cacchio Discussione Discussione ragazzi Due sono già stati eliminati Vuoto inizia tra 6 minuti Qua è successo Starf Qua è successo Perché Cos'è sta roba Dietro cosa Ok qua si vota Boh non lo so ragazzi Io non Ma chi è che ha ammazzato sta cosa No I'm not No non sono io Skip vote Io farei skip Dai skipiamo Ma io chi è che sono Ok ci scelgo Hai voto dove Voto dove Dai ragazzi Vai Vai Pogascio Tanto Non è che si può Intuire troppo Adesso Dai Vai Hacks Call Oh hanno tutti Skippato il voto Io mi chiedo perché Hanno tutti Skippato il voto Nessuno E salto Escurso Saltato Remare Non ho letto Così tanto velocemente Ma sta cosa qua E E quello Cioè penso che si strada qua Quella per fare emergenza Comunque allora Conicazione Sabotata Oh qua c'è una freccia qua sotto Andiamo qua a vedere Cosa succede Non abbiamo ancora fatto niente Cosa dice Incarichi completati Oh cos'è Admin Mens Infermeria O2 Eh Stiamo qua ad aspettare Allora Oh cacchio no Ci sono qua tutti Dobbiamo andare Qua Allora Aspetta che troviamo La strada Ma ancora Che due coglioni Ma dai Andiamo se si conosce qualcuno Ember Ember Cioè qua No non esiste nessuno Ember Purple Killed Onca Purple Ehm Più mi viola Dice Il viola Squidoddle Ciao va Se chiamo Squidoddle Vai Io ho votato Squidoddle No Non ho votato Dove sono io Si ho votato Ho avvitato Squidoddle Allora Risultati Tutti hanno avvitato Squidoddle Vediamo Oh Squidoddle Era l'impostore Ragazzi abbiamo vinto Rimangono Grandissimo E abbiamo vinto E abbiamo vinto la partita Dai vabbè ci sta Ci sta Ci sta come gioco ragazzi Proviamo adesso un'altra partita Ci vediamo un'altra partita Ok ragazzi Siamo entrati in game E c'è un impostore Tra di noi Ok Vediamo un po' Come va a finire La nostra partita La nostra partita Uno ha già Abbattanto il game E' elettrica Ma attenzione Stiamo sui tocode elettrica Chissà ci succede qualcosa Sempre qualcosa Siusa Ok Ok E' un po' di qua Download Vai Che ora Facciamo la manutenzione Ok Perfetto Manutenzione è finita Quando ci Ci da fare Ma cos'è? No Dai che due coglioni Però Gli yellow Dicono 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 Giallo E verde Vabbè Andiamo sul giallo Andiamo sul giallo Gli Hello Dai Guardiamo tutti Yellow Vai Guardiamo tutti Yellow Scriviamoci Dai che tanto Ok Oh abbiamo vinto Un'altra partita Abbiamo beccato L'impostore Era Giallo A posto A posto Quindi ragazzi Vi lascio Con questa scritta Qua Della vittoria Ditemi se vi è piaciuto Il video Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un like Di supporto Ci vediamo ragazzi Ad un nuovo video Di non so Qualc'altro Videogioco Quindi ragazzi Ciao 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 Grazie.